Ciao ragazzi, sono pronto, guardatemi, sono in divisa, domani c'è la partita della Cremo, grandissima, giocherà contro il Parma, i distinti riapriranno, siamo super fai, il tifo sarà fantastico, quindi intanto guardiamoci le previsioni per domani. Previsioni per sabato 20 gennaio al nord in Lombardia, al mattino locali nevicate sulle Alpi di confine fino a fondo valle, nuvolosità irregolare altrove ma con tempo asciutto, al pomeriggio ancora neve sui settori alpini di confine fino a bassa quota, sul resto d'Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori, al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori ma con tempo asciutto, temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Ragazzi, eccolo qua il bigliettino per la curva, io sono pronto, e voi? Cantiamo insieme una canzoncina che di solito si canta allo stadio. Dai Cremò, dai Cremò, dai Cremò, dai Cremò, dai Cremona, dai Cremona, dai Cremò, dai Cremò. Ricordatevi che su Cron TV sprende sempre il sole e vi aspetto allo stadio tutti insieme. Ciao!